Siamo nell'era del villaggio globale, eppure conta ancora il piccolo mondo quotidiano, il pallettiere, l'amico al bar, i colleghi di ufficio, navighiamo e chattiamo, ma è il rapporto con chi abbiamo vicino che cambia il nostro umore. Ecco perché un derby così conta di più, perché il risultato di stasera, nel suo piccolo, cambierà la qualità della vita di molti, almeno per qualche giorno. Alla stadio ci serve le azze di San Siro, mila litri, in tempi, con la sede di San Siro. Alla stadio ci serve le azze. La telecamera sarei perdente. Siete? Siete. Faccia il video! E questa sera ancora rifatta la stessa situazione, si può farsi sentire. Siete. 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 Eени a bongiare! Siete. 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 A sintonizzare. Siete. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.